ciao a tutti benvenuti in questo video dedicato a tutti coloro che sono nati il 23 settembre del 1966 io ringrazio mariella che mi ha dato la possibilità di fare il video su questa data di nascita dato che mi ha scritto vi ricordo che chi volesse un video dedicato può lasciarmi un commento sotto scrivendomi nome data di nascita e se vuole l'ascendente e così quando riuscirò a farlo perché l'unica pena è che dovete aspettare il lungo elenco che si sta formando mi dovete scusare ma ho anche parecchie cose da sbrigare e da fare e perciò sicuramente il vostro video verrà messo online l'unica pecca è aspettare appunto la messa la messa in onda vi ricordo che sotto trovate i miei contatti qualora voleste parlare privatamente con me e iniziamo a vedere subito con questa data di nascita vediamo che carta delle vite passate esce vediamo cosa vi siete portati in questa vita dalle esistenze che sono passate allora vediamo che cosa si sono portate dalle vite passate tutti coloro che sono nati il 23 settembre del 1966 e questa è una carta oracolo di chiamiamola di consiglio ecco vediamo che carta esce per i nati il 23 settembre 1966 vediamo un po ne prendiamo una prendiamo la prima ok allora iniziamo subito con vedere quale carta delle vite passate è uscita per voi persecuzioni e inquisizioni vediamo che cosa ci vuol dire cosa vi portate dalla vita passata dell'esistenza e passate vediamo persecuzioni meno male che qua sono messi a in ordine alfabetico aver estratto questa carta conferma i tuoi sospetti in passato sei stato accusato di stegoneria di paganesimo di altri crimini la persecuzione che è stata seguita in che è stata seguita ti ha causato grande sofferenza e la paura si è trasferita in questa vita in passato la tua personalità i tuoi comportamenti sono stati esaminati pubblicamente e sei stato incolpato di cattivi racconti e di morti che non avevano nulla a che fare con te i vicini e le autorità sostengono che lasciassi lanciassi maledizioni un reato punibile con la morte in realtà eri una persona di buon cuore che aveva la capacità di vedere nel futuro e di usare l'energia per guarire gli altri quell'esistenza ti ha reso molto sensibile al pettegolezzo e alle dicerie se ora ricevi false accuse sei spaventato e turbato perché quel comportamento ti ha condotto a una morte dolorosa nelle vite passate potresti anche aver paura di ammettere apertamente di essere ancora un guaritore o un sensitivo di talento inconsciamente mantieni segrete le tue doti spirituali per evitare di ricreare il dolore passato per guarire da tutto ciò tieni presente che in questa vita i maestri spirituali i guaritori sono apprezzati e non temuti hai accettato di incarnarti in questo tempo perché le conseguenze che hai faticosamente ottenuto nelle esistenze precedenti sono indispensabili nel mondo attuale essere tornato sulla terra dimostra che nessuno può farti del male in modo permanente o impedirti di seguire il tuo percorso spirituale allora vediamo un po che cosa ci dice questo oracolo e infatti vedi qui è come se tu ancora sognassi quello che ti è successo nelle vite passate ma c'è qualcuno sopra di te che ti protegge e ti vuol far vedere attraverso delle sensazioni attraverso delle delle emozioni o anche attraverso i sogni ti vuole far vedere che tutto quello che tu puoi fare che tutto quello che tu puoi trasmettere in questa esistenza non è punito come nelle esistenze precedenti dove hai sofferto e sei stato punito con il dolore perciò cerca di alimentare di studiare e di approfondire quello che sono quelle che sono le tue sensazioni adesso andiamo a vedere qualche curiosità sul giorno di nascita allora il 23 settembre è il giorno della breccia un tema ricorrente nella vita dei nati il 23 settembre è quello di aprirsi una breccia in mezzo alle restrizioni individui espansivi essi potranno essere liberi di sviluppare e mostrare la loro vera personalità solo quando avranno combattuto e superato le difficoltà fisiche o formali questa lotta è di solito molto intensa e in effetti prosegue anche dopo che la breccia si è creata la vita è infatti per loro una serie di ripetute sfide ad affrontare e vincere ogni volta in questo senso i nati il 23 settembre possono essere definiti come i guerrieri dei guerrieri spirituali i più evoluti usano i frutti della loro lotta per aiutare tutti coloro che li circondano diventano simboli viventi di determina di determinazione nel superare le avversità i meno evoluti possono invece in in pantanarsi in conflitti in cui riescono a sollevare molta agitazione ma non necessariamente a ottenere risultati positivi sarebbe vantaggioso per loro ritirarsi per un po di tempo dalla lotta per la vita mettere la testa a posto e dedicare la loro immensa energia al servizio di una degna causa i nati il 23 settembre sono capaci di spostare le montagne eppure vi sono delle volte in cui piombano in crisi depressive in periodi di scarso entusiasmo in cui non riescono a tirar fuori neanche una briciola di energia sicuramente non sono né pigri né indolenti e solo che non sono capaci di simulare l'entusiasmo e quando non si sentono ispirati preferiscono non far nulla piuttosto che produrre qualcosa di scadente l'evento in se stesso è ciò che li attira di più che siano tipi celebri emotivi o fisici sono sempre orientati verso l'azione e per loro le parole non sono che un mezzo per raggiungere un fine molti infatti non brillano per capacità retoriche e comunicano quello che hanno da dire in modo diretto a volte addirittura senza parole ma anche chi possiede il della dialettica si avvale di uno stile semplice preciso e sintetico che concede poco spazio agli eccessi verbali i nati in questo giorno riescono a essere estremamente affascinanti e seducenti anche se a un primo impatto possono sembrare chiusi e distaccati tuttavia gli altri non dovrebbero fare l'errore di scambiare il fascino naturale di queste persone con un esplicito invito a coinvolgerli a coinvolgerli emotivamente in particolare intimamente la maggior parte dei nati il 23 settembre mette il dovere al primo posto e il piacere al secondo qualunque sia l'immagine che dannosi di sé essi hanno pochi amici e non amano i pettegolezzi spesso conviene ammirarli da lontano piuttosto che tenere che tentare un approccio d'altro canto però queste persone dovrebbero evitare di isolarsi emotivamente di concentrarsi sui problemi universali escludendo le faccende personali sarebbe come trascurare gli alberi a favore della foresta i nati il 23esimo giorno del mese sono governati dal numero 5 dal pianeta mercurio mercurio rappresenta rapidità di pensiero comunicazione e cambiamento poiché la cuspide dell'equinozio d'autunno è fluenzata sia da mercurio sia da venere la creatività l'idealismo il fascino sono accentuati per i nati il 23 settembre tuttavia come molte persone governate dal numero 5 a che si tendono a reagire mentalmente in modo eccessivo e a cambiare idea e ambiente con molta facilità fortunatamente qualsiasi duro colpo possa riservare loro la vita questo non ha un effetto duraturo in quanto essi si riprendono in fretta 11 numero 23 è spesso associato agli avvenimenti e questo accentua il loro lato attivo e mercuriale il segno zodiacale di appartenenza è la bilancia i pregi dei dati in questo giorno sono creativo avventuroso e entusiasmante i difetti sono tormentato depresso e soggetto ai vizi andiamo a vedere qualche curiosità per quanto riguarda la bilancia e il lavoro la bilancia attratta dalla vita di relazione sceglierà attività che le consentono di rinnovare continuamente il contatto con gli altri essa emerge laddove è necessario manifestare buon gusto sensibilità moderazione senso della misura e dell'armonia si distinguerà nelle professioni in cui l'arte è l'argomento primo quindi nelle gallerie d'arte nell'allestimento di mostre nella diplomazia nelle pubbliche relazioni nella giurisprudenza e in tutti quei campi professionali in cui il bilancino potrà esprimere la sua grande capacità di contatto con il pubblico si possono vedere bilancio e gestire con successo agenzie matrimoniali dove sanno organizzare perfettamente feste e gire di gruppo a beneficio degli iscritti e gestiscono brillantemente il salotto degli incontri è possibile che la bilancia si dedichi alla professione di modella e indossatrice e che ne gestisca un'agenzia può anche occuparsi può comunque occuparsi dei vari settori della moda dell'arte dell'arredamento la grande passione se non addirittura il culto della bellezza può indurre una bilancia a gestire un salone di bellezza sia maschile che femminile e a occuparsi di fiori e composizioni floreale concludendo la bilancia può manifestare la propria creatività in tutti i campi in cui sia necessario un certo fascino e un gusto delicato e squisito oppure può volgere il suo interesse alla giustizia e alla legge il fondamentale desiderio di equità può spingere a un'attività sindacale ma è comunque importante che è importante per la bilancia trarre dal lavoro quelle gratificazioni di cui ha bisogno affinché possa crescere e prosperare il tenero arboscello dell'autoconsiderazione che nel tipo bilancia è per natura piuttosto fragile bene cari amici nati il 23 settembre del 1966 io ringrazio tele per avermi dato scusa del ringrazio mariella perdonami per avermi dato la possibilità di fare questo video io vi aspetto nei commenti prendete i miei contatti qualora voleste parlare con me con questo io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video